Dalla piazza al tribunale cambierà lo scenario dell'avvertenza dei dipendenti di Geoambiente, la ditta ormai verso la strada del fallimento, come ha annunciato l'amministratore straordinario durante l'incontro in prefettura dei giorni scorsi, tavolo chiesto dal sindaco Caruso a seguito della clamorosa protesta di quattro operatori ecologici arrampicati sull'impalcatura della chiesa madre per chiedere gli stipendi arretrati. Gli stipendi dovranno essere recuperati seguendo un altro percorso, quello delle aule del tribunale e non più in piazza con striscioni o altre manifestazioni di protesta. Stessa faccia della stessa medaglia è il servizio di raccolta dei rifiuti che in quell'incontro il commissario ha detto di non poter più garantire né ad A.C. Sant'Antonio né ad A.C. Catena, due dei tre comuni della provincia di Catania che anni fa hanno appaltato alla Geoambiente il servizio. A.C. Catena, ad esempio, primo comune ad aver redatto il nuovo piano nell'ambito della riforma che ha soppresso Iato e ha istituito Iaro, primo comune ad avere pronto il bando per la nuova gara d'appalto dopo il vaglio di Ureca, si trova a dover gestire l'emergenza. Intanto pare che fino all'11 aprile, ci spiegano il sindaco Ascenzio Maesano e Giovanni Grasso, assessore all'ambiente, la ditta continuerà la raccolta dei rifiuti. Nel frattempo il comune sta provvedendo ad effettuare un'indagine di mercato per affidare il servizio in via transitoria ad un'altra ditta, fino a quando non verrà affidato il nuovo appalto, così come è stato deciso nell'incontro in prefettura. Il contesto in cui si sviluppa la vicenda del fallimento della Geoambiente è più complicato da C.S.Antonio, perché il comune attraversa le problematiche legate al dissesto e perché si trova in una situazione debitoria pesante e perché i dipendenti non hanno ricevuto gli stipendi. La preoccupazione principale è garantire la raccolta dei rifiuti. Ad A.S.Antonio in questi giorni il servizio è in sofferenza. Proliferano i cumuli di spazzatura e nonostante il servizio non sia stato interrotto, va molto a rilento.